Si sono svegliati così i gialloblu quest'oggi, sotto la pioggia, clima comunque gradevole. Per il terzo giorno di allenamenti qui nel ritiro di Racines, il lavoro duro continua. I gialloblu in mattinata si sono recati in palestra per svolgere un lavoro di forza, di circuiti con pesi ed altri materiali specifici prima di tornare sul campo, per svolgere un lavoro di trasformazione assai utile in questi casi. La seduta è durata circa 1 ora e 45 minuti, si sta per concludere in questo momento, mentre sul campo per la prima ora e 30 si sono alternati solamente i quattro portieri, Raffael, Nicolas, Edineo Arrivi, Gollini e Ferrari, per svolgere un'altra seduta con il preparatore Hermes Morini. I gialloblu continuano, il lavoro continua qui a Racines e storeranno in campo questo pomeriggio per la seduta in programma alle ore 17.